Sì, allora, io anzi ho chiesto molto a Paolo di venire qui oggi questa sera perché io ho una particolarità. Io sono una fanatica di etimologie, cioè però nel senso che a me proprio mi eccitano fisicamente. Se a me mi raccontano l'origine di una parola, io mi spoglio, così, subito. Se poi mi parlano in greco antico, la do. Sono anni che aspetto che al primo appuntamento qualcuno mi dica trasverberazione. Non so se sapete cosa vuol dire. È la trafittura del cuore del putto da parte dell'altissimo. Poco usata, che peccato. Allora, mi piacciono tantissimo le parole perché sono parabole, raccontano delle storie. Io mi ricordo tutta la volta che ho sentito una parola per la prima volta. Per esempio, Nathan, io la prima volta che ho sentito la parola straniero, avevo otto anni, ero nel mio piccolo paesino veneto con mia nonna, siamo uscite in bicicletta e a un certo punto mia nonna si è scontrata con la bicicletta di un vecchietto che veniva dal paese vicino. Sono rimasti paralizzati nella calura di agosto, con le biciclette una sopra l'altra. Dopo dieci minuti di silenzio, mia nonna è riuscita solo a dire, beh scusa, ma da dove vieni? Eilo. E il vecchietto ha risposto, dall'altra parte del canale. E mia nonna è indignata e non poteva starsene casa sua, straniero. E così ho capito lì che nella vita bisogna presto scendere a lottare sulle barricate, che peraltro in Veneto sono solo di grappa le barricate. Allora invece la prima volta, la prima volta che ho sentito invece la parola lesbica, avevo 16 anni e stavo facendo il gioco della bottiglia. A un certo punto la bottiglia si ferma su di me e poi su Manuela, che era la più figa della scuola. Allora uno interrompe il gioco e dice, eh no, non vi potete baciare, se no vuol dire che sei lesbica. Io che sono ipocondiaca penso a una malattia mortale e svengo. Manuela, che invece aveva dei rudimenti di primo soccorso, mi fa la respirazione bocca a bocca. Io rinvengo e svengo 4-5 volte. Poi però la sera nel dubbio vado a casa da mia nonna che era la mia confidente e dico, nonna ma io sono lesbica. E lei mi dice, ma no amore, te sei soltanto un poco presbite. E così, quella sera ho capito anche il senso della parola rispettare, dal latino spettare, guardare, riguardare. Quindi per rispettare qualcuno bisogna guardare meglio, guardare due volte. Non vi dico io quanto l'ho rispettata, Manuela, tantissimo, soprattutto quando giocava a pallavolo. Comunque, questo è per le intenditrici, ecco. No, anche se devo dire che oggi io in generale non si parla più di categoria a proposito di stereotipi, preferisco moltissimo questo concetto della fluidità, no? Che deriva da fluire, da fluor, che vuol dire essere in trasformazione, non essere cangianti, che è utilissimo, perché così ci vuoi provare un po' con tutti, sai mai come va. E quindi adesso sono dovuta tornare da mia nonna, che dopo anni aveva imparato a dirlo alle sue amiche che ero lesbica, ho detto, nonna, guarda che io non sono più lesbica, si dice che sono fluida. E lei mi ha detto, va bene amore, vorrà dire che avrai preso un poco de freddo, te passo l'imodium. Ho dovuto spiegarle che insomma non si trattava di problemi gastrointestinali. Alla fine lei si è convinta, però mi ha ribadito, ricordati che l'amore prende sempre allo stomaco. E forse è per questo, perché l'amore prende sempre allo stomaco e non sai mai quando ti arriva, che tra tutte le parole, tra tutte le parole che esistono, al momento la mia preferita è un simbolo, è il più. Il più della sigla LGBTQI+, perché il più significa tutti gli altri. Cioè noi siamo la prima minoranza che comprende una moltitudine. Capite la genialata? E la cosa più incredibile è che la moltitudine non sa neanche che fa parte della nostra minoranza. Cioè e questo è secondo me straordinario. Tra l'altro nelle città dove le persone diciamo si possono esprimere liberamente, tipo a Milano, così io vivo a Milano oramai da molti anni, oramai di eterosessuali non ce ne so più. Cioè non li trovi. Veramente escono il sabato sera col passamontagna, si vergognano poverini. Cioè non sono terroristi, sono eterosessuali in libera uscita. A me sono rimaste solo due amiche eterosessuali. Veramente sono disperate. Il sabato sera mi chiamano piangendo. Io dico ragazzi, una me la sono anche fatta. Non mi disperate perché adesso c'è il più. Fate parte anche voi del nostro movimento. Va tutto bene. E se comunque nel caso vi venisse qualche dubbio, voi non vi preoccupate perché io ve li risolvo. L'importante è che mi parliate in greco e mi telefoniate. Eccolo qua. Il mio numero di telefono. Nel dubbio chiamatemi. Anna Caglia Marchioro, grazie. Grazie.